La sua disgrazia lo portò a essere un glaucoma. Poi quello che è diventato, perché riversò tutto questo suo handicap nella musica che imparò da un vecchio pianista che abitava vicino a lui. Lui aveva questo negozio e lui passava ogni tanto e vedeva questo pianoforte e andava lì a strimpellare. Lui il vecchio gli disse guarda ti insegno io poco per volta e fu così che imparò a suonare il pianoforte e poi studiò eccetera eccetera e divenne quello che poi è stato per tantissimi anni. Come on everybody! Come on together! Come on! Come on! No, no, no Grazie a tutti. 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 A... All right. 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 Yeah. All right. 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 Grazie a tutti. 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 Thank you. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.